Come si può fare sistema? Come momento di studio, come momento di apprendimento. In più bisogna aumentare i momenti di dialogo per fare ricerca, per far conoscere alle scuole e alle università quali sono i fabbisogni delle imprese, stimolare già nella fase di studio la soluzione di esigenze e di bisogni e quindi far conoscere, mentre i ragazzi e i giovani finiscono il loro percorso di studi, far conoscere alle aziende potenziali competenze, potenziali capacità e potenziali talenti. Questa cosa la stiamo mettendo in atto in Italia e in Puglia ancora di più, grazie a reti tipo Startnet, grazie a ITS come il Cuccovillo, grazie a rapporti di amicizia stretta col sistema dei Politecnici e dell'Università di Bari. Questo meccanismo, questa effervescenza in Puglia è già presente, dobbiamo potenziarla grazie anche a momenti come quello di Mexpe in cui ci dobbiamo incontrare, dobbiamo dialogare, dobbiamo fare networking e fare progetti di sviluppo.